I residenti sono pregati di lasciare le proprie abitazioni per disinnesco Ordigno, grazie. I residenti sono pregati di lasciare le proprie abitazioni per disinnesco Ordigno, grazie. I residenti sono pregati di lasciare le proprie abitazioni per disinnesco Ordigno, grazie. I residenti sono pregati di lasciare le proprie abitazioni per disinnesco Ordigno, grazie. I residenti sono pregati di lasciare le proprie abitazioni per disinnesco Ordigno, grazie. I residenti sono pregati di lasciare le proprie abitazioni per disinnesco Ordigno, grazie. I residenti sono pregati di lasciare le proprie abitazioni per disinnesco Ordigno, grazie.